Dalle analisi del nostro comitato è emerso uno stato della sicurezza del Paese davvero positivo. Gli investimenti in sicurezza crescono, i reati calano, il sistema di prevenzione sull'antiterrorismo è un sistema che fin qui ha retto, il contrasto alla criminalità organizzata ha dato effetti importanti sia dal punto di vista dell'arresto dei latitanti che dal punto di vista del sequestro dei patrimoni criminali, è un sistema, quello italiano, che in questo momento non ha niente da invidiare a nessun sistema di sicurezza al mondo, non ha niente da invidiare a nessun sistema di sicurezza al mondo. Ragione per la quale ringrazio tutti coloro i quali hanno partecipato al comitato e hanno contribuito in questi 12 mesi a fare sì che il nostro Paese possa essere considerato un Paese sicuro, mi riferisco ai vertici delle forze dell'ordine e dell'esercito, della protezione civile che sono qui accanto a me.